buonasera a tutti sono luigi genera se preferite bentornati su se vendesse ins gran cross con l'analisi del nuovo demo nel io da sverde nel mentre cercando di mettere a posto le cose vicino al pc allora demon meriodas verde anticipato di secoli rispetto all'uscita già per secoli entra pre potente nel roster di pg utilizzabili però però vi dirò non per forza in unità su cui pullare adesso ma andiamo con ordine versione fottutamente più forte di demon meriodas red nonché pg che entrerai con una prepotenza assurda nel prossimo meta pvp è un pg demone di attributo speed quindi blu aventi delle ultime caratteristiche perché parte con 40 per cento di pierce rate che la cosa principale per questo pg questo pg si basa sul pierce rate tanto che vi dico subito che la sua build è una build attacco difesa con però tutti i pezzi attacco con pierce rate un consiglio che faccio a chi non può permettersi in questo momento di crearsi un set apposito per lui e intanto magari giocarlo con attacco difesa e pian pianino crearvi proprio un set ssr con pierce rate come sub oppure ancora potreste anche giocare con i pezzi r in cima io probabilmente inizierò con un doppio r pierce rate per poi passare un ssr quando uscirà anche l'altro pg della combo andiamo però a vedere le associazioni può essere associato con le varie merlin con bellion con elatte galan di vari comandamenti come vedete ci sta skill 1 che è la skin principale la skill 2 non lo userete quasi mai la skill 1 è quella che più è quella che più utilizzerete se in pvp che in pve ovunque infligge da 100 a 250 per cento di danni pierce che sono danni che tengo un conto del 3 per ragazzi del fattore di pierce del pierce rate quindi ragazzi sono sono signori danni può arrivare tranquillamente a oltre 30.000 danni con con l'attacco bronzo a oe a tutti i nemici poco da dire perforerete detta papale papale le difese avversarie poco da farci la skill 2 è carina però niente di eccezionale e infligge corrosione che fa del danno aggiuntivo alla fine di ogni turno pari al 15 20 al 15 o al 20 per cento per tutti i nemici la differenza sostanziale che rancune 2 fa degli hp rimanenti quindi non potrete mai uccidere il ranc 3 fa degli hp massimi e la rischia di far male purtroppo non tutti i nemici sono deboli a corrosione la special è la stessa che abbiamo visto in demon male rosso abbiamo quindi un weak point 3 per danno contro i nemici debuffati che parte da un 3 85 arriva a 5 78 4 40 6 60 ci sta a dire poco come potete leggere qua è devastante il problema principale del pg il problema principale del pg a mio avviso può essere quello di non avere ancora lilia si qua anche la build critical è abbastanza carina probabilmente proverò quelle in realtà così per buildarmi qualche equip critico dato che ancora non le ho e fargli un equip unico la passiva ok la passiva poteva essere meglio ma poi forse sarebbe stato troppo barato è immune all'annullamento dell'attacco quando ha 4 meno orbo ovvero l'attacco che fa gotter con l'S1 livello 2 il pg come vi ho detto è buonissimo cioè parliamo di un re del pvp che è stato quasi incontrastato nei vari setup fino all'uscita di meliodas lost vein naturalmente però ragazzi ve lo dico non è obbligatorio prenderlo adesso questo perché perché non è un pg limited non è un pg che non torna più non è un pg non è un pg che ha un'urgenza anzi da quando si andrà via diventerà fisso nella batch dei demoni di umani delle fate quello di cui riceviamo ormai da un po di tempo ormai un mese direi un ticket a settimana e in futuro tornerà oltre che in vari banner anche nei ticket parte 2 oltre a tornare nella batch però di meliodas lost vein quindi per cui potete stare tranquilli che parliamo di un pg che potrete sempre trovare a mio avviso è più importante avere l'ilia rispetto che lui ciò nonostante di sicuro uno dei migliori pg attualmente nel gioco capace di fare tutte le modalità lo sto provando anche nei demoni in cui funziona almeno nel red funziona più che bene nel crimson devo ancora provarlo nel crimson e oddio nel crimson no nel crimson penso che sia l'unico in cui non riesca a funzionare più di tanto però vi ha ragione però è davvero un gran gran pg detto questo ditemi se voi l'avete pullato con quanto l'avete pullato come lo builderete e ci porterò se riesco un video quando avrò la sua build definitiva quindi attacco critical damage con hp difesa e pierce rate perché voglio provarla come build non mi dispiacerebbe tutto questo ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao